è finita la nostra lezioni di fitness con stile vero marylin è stata una vera sudata ma le prime lezioni sono sempre dure però a partire da domani ogni giorno lezioni di fitness con irina giudea non poteva mancare su lezioni di stile su iris tv quindi rimanete con me perché ogni giorno vedrete tante sudate da casa